Se oggi non piangiamo una vita è grazie alla prontezza di intervento di chi ha capito la situazione e non si è perso d'animo, alla professionalità dell'infermiere che ha risposto al numero di emergenza e alla presenza del defibrillatore obbligatorio per legge in ogni struttura sportiva. Il presidente dell'Ordine degli Infermieri di Ancona, Giuseppino Conti, commenta così l'episodio che due giorni fa ha visto protagonista a suo malgrado un 62enne di Monte Roberto colto da infarto durante una partita di calcio con gli amici e salvato grazie all'utilizzo del defibrillatore presente all'interno del bar del circolo. Ecco che torna quindi da attualità la questione relativa all'importanza di implementare i corsi di primo soccorso. Ad oggi, afferma l'Ordine, questi sono limitati ai soli infermieri ma a partire dal 2025 saranno aperti a tutti i cittadini. I corsi BLSD sono fondamentali e sono visto che nel campo dell'emergenza la tempestività gioca un ruolo fondamentale ebbene che questi corsi siano i più possibili diffusi. Per chi non ha frequentato alcun corso bastano pochi semplici passaggi che possono rivelarsi determinanti per salvare una vita. A cominciare dalla telefonata al 112 seguendo le istruzioni ricevute nell'attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Parliamo di un personale quindi formato quindi per la gestione dell'emergenza urgenza. Conti risponde così a chi nei giorni scorsi aveva criticato la mancanza di un medico a bordo dell'ambulanza per fronteggiare questo tipo di situazione. L'infermiere quindi troppo spesso ci dimentichiamo quindi che ha una formazione elevata quindi specifica proprio quindi nel campo dell'emergenza urgenza. Perché è importante unirsi a questi corsi? Sì è assolutamente importante quindi che la formazione quindi nella gestione dell'emergenza sia il più possibile diffusa proprio quindi per migliorare quindi il tempo, la tempestività.